Si apre lunedì davanti al GUP di Milano Livio Cristofano, l'udienza a preliminare a carica di Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassari, ex vertici del Monte dei Paschi di Siena, di Sadek Sayed, ex seo di Nomura, di Raffaele Ricci e delle stesse due banche, tutti imputati per l'operazione Alexandria. Operazione che sarebbe stata funzionale a coprire l'impatto negativo dell'acquisto di Anton Veneta sui conti della banca senese. I pubblici ministeri di Milano, Giordano Baggio, Stefano Civardi e Mauro Clerici, che coordinano i tre filoni milanesi dell'inchiesta su MPS condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, hanno chiesto rinviare a giudizio, contestando ai cinque indagati a cui si aggiungono le due banche in qualità di persone giuridiche. I reati in falso in bilancio e manipolazione del mercato in relazione al bilancio 2009 dell'istituto senese, approvato alla fine di aprile 2010, proprio quello successivo all'acquisto di Anton Veneta. Secondo l'accusa con l'operazione finalizzata a ristrutturare il derivato Alexandria, posseduto da Banca Monte dei Paschi attraverso un contratto stipulato tra MPS e Nomura, gli ex dirigenti avrebbero nascosto perdite per oltre 300 milioni di euro, con un sistema che avrebbe permesso ai vertici della banca senese di chiudere inutile e di abbellire il bilancio della banca, anche in funzione delle erogazioni per il sistema senese. Non è stato possibile fissare l'udienza preliminare prima di lunedì perché il giudice ha dovuto cercare la disponibilità di un'aula grande al primo piano del Tribunale, è adatta a ospitare un gran numero di avvocati, perché si prevede la presenza di molte parti civili. L'udienza preliminare nei confronti degli ex vertici della banca senese e degli altri coimputati, in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, che si apre lunedì nel decreto di fissazione dell'udienza, indica tutte le persone offese dai presunti reati di falso in bilancio e manipolazione del mercato. A cominciare dalla Consob, dalla Fondazione Monte dei Paschi, prosciugata dagli aumenti di capitale necessari ai magheggi finanziari della banca senese e dalla stessa banca Monte dei Paschi, contemporaneamente coimputata e persona offesa. Tra le persone offese, che hanno quindi la possibilità di chiedere di entrare come parti civili nel procedimento, ci sono anche l'Associazione Buon Governo, il Codacons, la DUSBF, il Movimento Consumatori e l'Unione Nazionale Consumatori. Grazie.